Siamo qua a Varese Orchidea, 17esima edizione, abbiamo il piacere di aver invitato e di aver avuto il giudizio della Deoghe, associazione tedesca per quanto riguarda le Orchidee e appunto con la presenza dei giudici abbiamo ricevuto quelli che sono i loro giudizi. Prima volta a Varese Orchidea dopo che hanno fatto con noi una collaborazione a Piove, l'Orchidea l'ultima edizione e adesso passo la parola a loro e con grande piacere vediamo che giudizi hanno dato quest'anno sempre che ci sia stata qualche pianta o qualche stand che abbia meritato appunto il loro giudizio. Grazie. Allora ha detto di ringraziarvi tanto per questa mossa e di essere stati invitati. Allora ha detto di ringraziarvi tanto per questa mossa e di essere stati invitati. di ringraziarvi tanto per questa mossa e di essere stati invitati. Adesso ci spiegheranno come fanno a dare giudizio dei vari stand che ci sono. Allora prima di tutto guardano come è stato disposto e come è stato presentato e poi dopo di quello vanno a guardare le altre cose che adesso ci spiegherà. Poi dopo guardano quante piante ci sono, le qualità dei fiori e anche delle foglie. Poi in base a quello loro fanno una specie di categoria in base alle varie piante a punteggio e in base ai punteggi che uno riceve gli viene data la medaglia d'oro o d'argento. Per il vostro spiegheranno un punto molto basso. Questo è il miglior risultato di questa mossa. Perciò vengono la medaglia d'oro e saranno anche il campione di questa mossa. Allora siccome noi la LAO ha avuto quello del più basso punteggio perché è un punteggio che viene a scalare, ha vinto sia quello di campione e anche il premio di miglior espositore. La ragazza per cui facciamo questo è perché ci sono molti spazi diversi, ogni spazi ha un nome, un signo, e anche l'arrangemento del stand è meraviglioso. Uno perché tutte le piante hanno il suo nome e sono state disposte in una maniera bellissima ed è per quello che tutto insieme fa una cosa bellissima. Grazie. 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 So we will explain how we found out that this cut layer hybrid is the champion of this show. This is caused by the sides of the flowers and the color and also the substance of the flower itself. e è la migliore planta di questa show. Hanno dato il premio di campione a questa catlea per il fiore così grande, il colore e anche le foglie in se stesso come è fatta. Abbiamo avuto piacere di avervi anche quest'anno su questa mostra al Varese Orchidea la prima volta. Avremo piacere di trovarvi anche o da voi o per il prossimo anno al Varese Orchidea. Quindi vi piacerebbe rincontrarci e ricevere nuovamente il vostro giudizio perché siete stati gentilissimi, carinissimi e super preparati perché è veramente meraviglioso avere poi questi premi e queste soddisfazioni anche da parte vostra. Grazie mille a tutti. Dobbiamo ringraziare tutti i soci che hanno collaborato, lo staff delle preparazioni di questa mostra bellissima che è da mesi che prepariamo. Vogliamo vedere Francesca qua con noi che è l'autrice dell'idea, la principale socia attiva su queste preparazioni che coinvolge tutti, che ci fa meritare questi premi. Grazie Francesca. Grazie mille. No, dobbiamo veramente ringraziare il team di soci perché ci sono persone che vengono a casa mia la domenica e passiamo una domenica assieme, sono in 7-8 persone ma che vengono anche da regioni diverse ed è molto bello perché siamo creato un bel gruppo e vedere la voglia di persone che prendono il treno vengono apposta per creare questo perché alla fine non si vede il lavoro dietro ma noi qualche domenica l'abbiamo passata per farlo quindi è vero l'idea principalmente la mia ma se non avessi dietro queste persone, questi soci che hanno la voglia e la passione come me di creare questo non sarebbe possibile quindi lavoro di tutti, di tutta l'associazione, di tutto lo staff che siamo riusciti a fare questo. Grazie mille. Ringraziamo di nuovo i giudici. Sì assolutamente, grazie. Grazie mille a tutti i soci. Ci troviamo con altri due giorni, oggi è venerdì, c'è domani sabato tutto il giorno, domenica ci sarà ancora tutto il giorno con i corsi, con il nostro aiuto, l'SS Orchidea, il controllo dell'acqua, il garden che ci dà ospitalità che ringraziamo e tutti gli espositori ovviamente. Grazie ancora ai giudici, grazie a te. Grazie.